Allarme degli insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Cittadella. Alcuni mesi fa dei bambini di nove anni sono stati scoperti dalle maestre a navigare fuori dall'orario di scuola su siti pornografici. Inoltre le insegnanti avevano scoperto che un'alunna utilizzava sul suo profilo whatsapp una foto in cui appariva truccata, pettinata e atteggiata da adulta. Il vicepreside dell'Istituto, Nereo Marcon, ha subito contattato i genitori. Tra loro, ha detto, c'è stata grande preoccupazione insieme a stupore e sorpresa. Alcuni genitori hanno appreso la notizia con un certo disorientamento. Anche per questo li abbiamo sollecitati a fare maggiore attenzione sull'uso che i figli fanno del telefonino, proponendo l'attivazione del blocco all'accesso ad alcuni siti. Da ottobre a Cittadella partiranno due corsi promossi dall'Istituto Scolastico per un uso consapevole delle tecnologie, sia per i ragazzi che per i genitori. Uno per bambini dalla terza elementare alla terza media, tenuto da educatori ed esperti in affettività e del web, sull'uso corretto della strumentazione tecnologica. La sera invece con la polizia postale per i genitori. E non c'è solo il porno, ricorda il professor Marcon, c'è anche il tema del cyberbullismo. Ne parleremo.